L'amministrazione di Pineto è appesa a un filo. La crisi in Consiglio Comunale si è aperta quando, circa un mese fa, i quattro consiglieri di Italia Viva, eletti con la lista Scegliamo Pineto a sostegno del sindaco Verrocchio, hanno disertato l'aula abbandonando il primo cittadino. Per tutta risposta Verrocchio ha ritirato le deleghe a due renziani, tra cui l'assessore al bilancio e alla sicurezza Claudio Mongia. Ora è il Movimento 5 Stelle, che a Pineto ha due consiglieri finora all'opposizione a poter assicurare i numeri della maggioranza salvando il sindaco. Siamo pronti all'astenzione tecnica per evitare il commissariamento in questo difficile periodo storico, ha detto in conferenza stampa il capogruppo da Fiume. La cosa che più ci interessa è non lasciare la città in piena stagione turistica, in piena campagna vaccinale e con tutte le problematiche che sappiamo derivanti dalla pandemia scoperta di un'amministrazione. Questo non significa che siamo organici alla maggioranza, si è iniziato un percorso di confronto sui temi, quindi il nostro è un atteggiamento responsabile da cittadini di Pineto prima di tutto, oltre che consiglieri del Movimento 5 Stelle, per cercare di non lasciare la città completamente senza amministrazione. Solo nel momento in cui ci dovesse essere una quadra sui temi da portare avanti, allora potremmo pensare di entrare in maggioranza. E' in corso il confronto tra sindaco e pentastellati per trovare un punto d'incontro sul programma di governo. Le priorità dei 5 Stelle riguardano turismo, commercio e ambiente. In caso di convergenza sui temi, dicono i grillini, entreremmo in maggioranza per senso di responsabilità, ma abbiamo già rifiutato un assessorato. Intanto Verrocchio dovrà decidere come ridistribuire le deleghe revocate d'Italia Viva, che al momento sono assolte dal primo cittadino. Vi aspettate che questo confronto possa portare a un rimpasto di giunta e casomai un assessorato? Allora, questo, diciamo, noi iniziamo, la domanda è pertinente, ma questa è la coda, cioè nel senso che quello dovrà essere lo sbocco finale nel momento in cui ci saranno le condizioni. Non è il nostro obiettivo entrare in giunta per avere un assessorato. Quindi di questo noi non abbiamo parlato ancora all'interno del gruppo, perché prima bisogna fissare i punti programmatici. Se i punti programmatici saranno condivisi, allora è ovvio che da persone responsabili ci dovremmo assumere anche le nostre responsabilità.